Viviamo per il nostro tempo, speriamo per l'avvenire e impariamo da quel che l'estate. La memoria per non smentire. La storia ha chiamato tutto il Trentino, Beleca e Caccentegni, al riappuntamento della Gran Vera. Su desvalives territori, schiapes di sudè in gran parte giovani e giovani, gela gonteda a seguiti distruzzi che non ha parole per non riconoscere. Iladins de Fassa è stato tracciato e vedo che era più grande che lì. Massa grande, per gente sempre, usate così a girare il mondo tanto che loro erano, ma per noi averti a se troverte dentro l'arruolamento dell'esercito austro-ungarico. Iladins de Fassa è stato tracciato all'Oriente. Da quella vera, ha lasciato questa terra molto del sud di Fassin che in cui pausate la cortina di vera di quella che un tempo era la Galizia e che in cui è stata descansolata dai stati di Russia e Polonia. Ricordare che è la sosta che fa crescere, la Galizia a guardare in Ante facendo esperienza di qualche l'estate. Le non smentire che per dire i sogni a crescere ma durano valori che te la sassi in Ante in cui anche il tempo si fa scuro e la vita dell'uomo è considerata manco che niente. Ricordare la nascente dell'Emena che consta la pede non per mancogna ma per mettere in più il presente, per fermenare il cuore, con scienza, che gli eroismi del passato, tanta di volte si s'estrenge nella medalla con scritta l'ecola che si è nascuta, il nome, il cognome e l'ec della morte. Parliamo dei giovani, parliamo di tutti che hanno conosciuto la casa, hanno conosciuto le famiglie per andare alla foresta, per andare lontano, per andare a combattere sul fronte orientale o comunque da altre mani e a morire senza sapere il perché. Allora ricordare questa vicenda, queste vicende vuol dire riportare per una certa misura queste persone, riportarle ante noi e ricordarle, onorarle e dare un messaggio ai giovani, alle future generazioni di girare su strada e di passare. Te valde faccia, il ricord non è mai venuto manco, ma l'è sempre stato portainante di mura sdecesa a una vita personale. Non ha tenuto, ma non c'è i testamoni di chi faccio, e l'è perché è che in che più che d'ant cresce il besen che la memoria dovente velc d'endrezza e ordena. A seguito dell'uriera scorta e paziente di Maria Piccolin, l'è in che possibile sottare in autertassale al mosaic della memoria del chieder della storia della nostra gente. Il libero per non smentire, le demone aperte del progetto più grande, del mediamo tempo, il libero dell'origine che ha dato vita a una commemorazione che si ha desleaforato i più momenti, e l'ence la fine, quel che restarà, del sema monumento alla memoria dei ducchi. Il libero della Maria ne dà sconto di questa storia, di questo periodo storico, ma soprattutto ne dà sconto da un punto di veduta umana, dei sentimenti, di quello che ha voluto dire per la comunità, al di là dei proclami così retorici sulla guerra che è del passato l'estate, e ne lo dà appunto da un punto di veduta umana, dei sentimenti, di quello che ha voluto dire dal buono per le famiglie, per questi giovani, per queste mamme, per queste femmine, per questa comunità, che ha voluto dire chi si vince. I temperanti, la cronaca di un evento che si ha rivelasso in tutta la gente di fascia, ha una nota sensibola all'orgoglio di si è passato, momenti di grande emozione che ha toccato il cuore. Sentire leggere i diari di vera di chi ha buono la buona sorte di venire di ritorno, non è stato esercizio retorico, ma vedere il cuore a padrimenzi che ha buono per la sua remessa a te val di fascia e fuori di qua. Da lì, ai 17 orri del 1920, dalle snette da sera, sono ria contenta e amò vif, all'ongiarù, te mi aval, te mi amagione, sono ria accesa. De cortina di vera di Sant'Ugena, l'estate l'aneifa fa fare da sua raccoglia la porcisione di autorità des civiles, militari, religiose e politiche. L'Ucraina e la val di fascia si accentuano molto più vicini per ricordare e più peconti per non smentire. Il piove è aici, perché fascia esita a coer su la terra di Sifies per la portiera accesa di schessene il simbolo dei pesci. La giusta fiocassa, Sant'Ugena, perché l'Ucraina ha voluto rete l'onore. Da un'antenne, da quel scuro e quel dazio di sangue con 235 morti, le crepà fuori dalla terra in tesseda della vera, una bella frada. A ricordare per sempre, sarà libero e essere tracci. A seponterre il ricord della terra, sarà che il monumento di feri e sass. Dessere che tenere a mente che il feri di canone si riuscirà e il sass e la crepa o la che si piera il ricord restarà per sempre e un brumwift il cef di Duce e se codì da un ciel per Duce.